Questo qui è un aspietto, eccolo qua, con delle bremotte da mezzo chilo, ce ne sono anche fino a due chili, però pescate in corrente nel po' sono anche divertenti anche queste. Ma è anche, diciamo, l'ora più calda, se vi deve essere scaldata un pochettino l'acqua. Un cefalo! Sembrava che avete un cefalo! Robi, un cefalo a febbraio! Vediamo se riusciamo a guadinarlo. Sul guadino corto si è rotto. Eccolo qua!